nuova svolta ambientale nell'ambito del programma energie per il sarno il maxi piano di interventi che punta al disinquinamento del corso d'acqua entro il 2025 questa volta si tratta del comune di lette grazie all'impegno di regione campania ente idrico campano e gori alla costruttiva sinergia con l'amministrazione comunale si è compiuto un significativo passo in avanti l'eliminazione degli scarichi in ambiente di via Pozzillo e via Casavolio con il collettamento dei reflui di tutta la frazione San Lorenzo pari a 1500 abitanti all'impianto di depurazione di scafati un intervento di bonifica a cura di gori che contribuisce al risanamento di una delle aree naturalistiche più suggestive del territorio campano e restituisce alla comunità il godimento dei suoi luoghi con il superamento delle criticità igienico-sanitarie che affliggevano la località di San Lorenzo Abbiamo risolto una problematica che risaliva decenni fa finalmente grazie a questo progetto abbiamo risanato a punto di vista ambientale tutta una frazione migliorando anche la qualità di vita di più di 1500 persone perché in questa frazione abitano circa 1500 persone poi ci sono tutti gli abitanti del comune limitrofe e comune di Casola veramente un intervento di cui sono orgogliosa perché questa zona oltre a problemi di scarichi proprio stando in una situazione di abbandono era diventata anche meta dell'abbandono di rifiuti quindi grazie alla sinergia con l'EIC Campania, il Gori e la Regione Campania abbiamo eliminato gli scarichi ma anche eliminato tutti i rifiuti perché c'è stato un bel lavoro di questi mesi questo risolve un problema tavico abbiamo parlato di 1500 abitanti che scaricavano in un ambiente come vedete un ambiente sano e che purtroppo veniva inquinato da uno scarico fognario questo è un intervento che riguarda appunto 1500 abitanti che porteremo a depurazione vanno all'impianto di scafati l'impianto di depurazione di scafati si innesta questo intervento nel più complesso intervento programma di interventi che ha energie per il sarno con il quale come sapete puntiamo a chiudere tutti gli scarichi con questi di oggi siamo arrivati a 47 dei 113 da chiudere e dentro il 2025 noi puntiamo a chiudere il programma e quindi a una bonifica complessiva di tutta l'area del bacino del sarno oggi è una giornata importante perché consigliamo due risultati il primo è portare a compimento un'opera molto spesso le opere si raccontano, si impegnano impegni che poi la gente vede spesso non mantenuti noi invece veniamo sui territori per testimoniare cose già fatte, già realizzate e che quindi presuppone un grande lavoro che è stato fatto secondo punto importante è che questi risultati noi li abbiamo svolti da soli abbiamo fatto accanto alle comunità locali accanto alle comuni, accanto alle amministrazioni chiaramente con il supporto della regione, del nostro gestore Gregori ma abbiamo messo in capo un meccanismo virtuoso per fare in modo che oltre all'opera si porti avanti un meccanismo di sensibilizzazione oggi è una giornata importante per lettere ma è una giornata importante per tutto il territorio oggi siamo qui per inaugurare il collettamento agli impiani di depurazione di 1500 abitanti ma soprattutto siamo qui per restituire dignità a un territorio bellissimo, naturalistico da un punto di vista ambientale eccezionale che invece veniva inquinato da due scarichi in ambiente il lavoro che abbiamo messo in campo fin dalla nascita dell'ente idrico campano e grazie al supporto e all'impegno del Presidente De Luca stiamo portando avanti oggi aggiungo un ulteriore tassello a quello che è il definitivo disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti